È stato presentato al Baglio Anselmi a Marsala il progetto di valorizzazione dei siti archeologici del territorio attraverso eventi musicali di grande rilievo che a partire dai prossimi mesi di agosto e settembre costituiranno un importante appuntamento culturale che di anno in anno si ripeterà con evidenti e positive ricadute anche di natura economica sul territorio e sulla città lilibetana. Il progetto è stato illustrato al Baglio Anselmi dove è stata firmata la relativa convenzione tra i partner Polo Museale di Trapani e Marsala, Ente Luglio Musicale, Archeoclub di Trapani e la Proloco 2.0. Presenti l'assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana Sebastiano Tusa e Leonora Locurto, ideatrice dell'iniziativa, Ivana Inferrera per l'Archeoclub di Trapani e Mario Ottoveggio per la Proloco 2.0 oltre al sindaco Alberto Di Girolamo. Si tratta di un ulteriore tassello per fidelizzare e attrarre prima di tutto i cittadini, quindi gli abitanti di questa zona ma poi anche i turisti ovviamente e quindi arricchire la già corposa offerta culturale di questi presidi museali che sono nella città di Marsala con degli spettacoli che indubbiamente arricchiscono il tutto, danno l'opportunità di attrarre sempre più persone con delle occasioni di intrattenimento e di godimento. È un'idea estremamente interessante che l'On. Locurto ci ha proposto e noi abbiamo immediatamente accettato e che quindi costituirà un ulteriore elemento per rendere sempre più bella questa città che già di per sé è bellissima. Grazie a questo progetto che io ho lanciato l'idea, poi è stata accolta benevolmente sia dall'assessore Tusa, dal direttore Biondo, ci sarà anche la Proloco 2.0 perché sono ragazzi in gamba capaci di organizzare bene e l'ente luglio musicale che ha la know-how artistica chiaramente, ho messo su questa idea e saranno allocati all'interno di questi siti archeologici, al tramonto perché il tramonto è un'altra delle straordinarie bellezze del nostro territorio, degli eventi musicali importanti, non il concerto solamente, per carità ci potrà pure essere, questo serve anche per attrarre gente, però l'obiettivo è che in questi luoghi della cultura, in questi luoghi della storia che hanno una loro sacralità, si impari a vivere e a godere uno spettacolo di carattere culturale, anche un modo per socializzare un'esperienza diversa. Stiamo montando la famosa nave romana, abbiamo pulito il parco finalmente dopo tanti anni di abbandono, stiamo pensando a aprire questo parco e renderlo quanto più visitabile e quanto più dei marsalesi, quanto più dei turisti che arrivano in questo luogo. L'idea è di una convenzione con delle realtà anche locali, ma non solo, che possono permetterci di creare degli eventi dentro questo parco che possono essere attrazione per portare quanto più persone qui. È un lavoro costante e continuo, difficile perché parliamo di 28 lette di parco, di un museo gigantesco, di opere straordinarie, ma queste tappe dovranno continuare ancora per un po' e spero che ce ne siano tante.